Dirà forse alcuno, ma non sei buono, Socrate, di vivere tacendo, stando quieto dopo andatone via da noi. Ma fare intendere ad alcuni di voi questo è la più malagevole cosa, perché se dico che questo è disubbidire all'idio e che è impossibile che me ne stia quieto pensando che io voglia ironeggiare, non mi crederete voi. E se dico che grandissimo bene a un uomo far ogni dì ragionamenti sulla virtù e quegli argomenti sui quali mi udivate conversare ed esaminare me e gli altri, la vita senza esame è indegna di uomo. Se dico questo, tanto meno mi crederete voi. Eppure così è, come dico, ma non è cosa facile persuadervene. Ma, da altra parte, anch'io non mi sono assue fatto a credermi meritevole di alcun male. Onde se avea dannari, mi multava in dannari. Quanti ce ne voleva che non me ne venia danno. Ma, ma non ne ho, salvo che non vi contentiate di quel tanto che posso pagare io. Una mina d'argento la potrei forse pagare. Dunque, io mi multo me di tanto. Platone, che qui, Atenesi e Critone, Critobulo e Apolodoro, vogliono che io mi multi di trenta mine, rimanendo essi malevadori. Dunque, io multo me di tanto. E ventran malevadori del danaro, questi qui, persone delle quali ci è da fidarsi. Now, it says here, fu condannato a morte. So, the translation is quite, what's it called, quite anonymous. He is condemned to death in all the four text versions. So, the translation is quite, what's it called. So, the translation is quite, what's it called. So, the translation is quite, what's it called. So, the translation is quite, what's it called.